Era il novembre 2014 quando a Roma, presso la sede del Mise, il Ministero per lo Sviluppo Economico si firmava il protocollo di intesa che sanciva la fine della raffinazione del petrolio a Gela. Al suo posto veniva annunciata la riconversione dello stabilimento di Piana del Signore che avrebbe dovuto modificare senza far perdere nessun posto di lavoro, almeno così avevano detto i nostri rappresentanti politici che avevano apposto la loro firma su quel documento dalla portata sicuramente storica la produttività del sito industriale gelese. Niente più petrolio da lavorare, niente più raffinazione e niente più devastazione del territorio con il pesante inquinamento portato da quella petrolchimica. Ma da quel lontano 6 novembre 2014 di tempo ne è passato e dalla devastazione del territorio con la fabbrica del Cana Seizampe in marcia si è passati alla devastazione economico-sociale di un'intera comunità. La chiusura dello stabilimento è infatti apportata in questi lunghissimi 18 mesi allo sconvolgimento del tessuto economico-finanziario della città. Licenziamenti, disoccupazione e drammi sociali sono stati all'ordine del giorno. L'ultimo dei quali riguarda l'operaio della SMIM Matteo Guerrei che per disperazione, visto che non percepisce la cassa integrazione da oltre 8 mesi, si è asserragliato in cima ad un pontone della sua ex ditta. Ieri finalmente dalle parole si è cominciati a passare i fatti. La Green Rife Aneri non è più nel libro dei sogni. I vertici nazionali di Eni sono venuti a Gela a dire che è stato assegnato l'appalto alla ditta americana Forster e Wheeler per la costruzione dell'impianto di bioraffineria Green. Ci vorranno altri 12-18 mesi per poterlo vedere in funzione. Ma intanto è stato definito che a lavorare sul cantiere che costruirà il più grande impianto di Green Raffineri d'Europa saranno soltanto maestranze locali. Una boccata d'ossigeno per la sfittica economia gelese. E poi la conferma che Eni non ha alcuna intenzione di abbandonare il sito di Gela e che il colosso energetico italiano vuole invece puntare decisamente sul polo industriale di Gela. Una speranza in un mare magnum di problemi che potrebbe diventare il volano di un nuovo sviluppo magari stavolta meno ancorato alla sola presenza di Eni di questo martoriato territorio.